benvenuti nella parte tecnica della puntata di oggi che come avete sentito leg produzione e consumo e dove è emerso chiaramente che il consumatore per tutelarsi deve conoscere sempre di più la storia del prodotto e in questo gioca un ruolo fondamentale la tecnica di produzione e ogni settimana a Grest è proprio qui per voi cari amici produttori per darvi le indicazioni per produrre al meglio nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata della regione Emilia Romagna che sono garanzia di massima salubrità qualità e controllo delle produzioni ed aspetto fondamentale della gestione tecnica in particolare nella difesa sono i modelli previsionali che danno informazioni sugli stadi di sviluppo di insetti e funghi un sistema che tutto il mondo ci invidia perché attraverso questi modelli è possibile sapere come si sviluppano le malattie ma soprattutto come combatterle con la massima efficacia quando parliamo di modelli previsionali non possiamo non parlare che di clegliatosi ciao cleglia intanto ben arrivata ciao riccardo buongiorno a tutti cominciamo a vedere qual è lo stadio di sviluppo della ticchiolatura come siamo messi in campo sono già visibili tutte le infezioni che ci sono state e solamente allora dove non ci sono state infezioni primarie sarà possibile interrompere la difesa alla ticchiolatura sul pero invece la difesa fungicida continuerà facendo particolare attenzione in questo caso alla maculatura bruna nell'ultimo periodo abbiamo avuto un'elevata ventosità che ha determinato delle condizioni sfavorevoli quindi al momento il rischio indicato da modello è basso anche la lettura dei vetrini che eseguo due volte alla settimana ci indica un volo molto molto scarso altra brutta bestia il colpo di fuoco beh in queste giornate il rischio è elevato quindi attenzione ai campi che subiscono delle grandinate o hanno una forte presenza di rifioriture in questi casi ovviamente ricordo che occorre eseguire pulizie repentine e corrette e a questo punto io darei la parola al medico delle piante che per questa settimana è andrea rimondi grazie cleglia un saluto a tutti cominciamo come solito parlando della ticchiolatura del melo dai rilievi fatti nelle vende nell'ultime settimane si denota come c'è una percentuale di vende che non hanno per fortuna contratto la malattia sono pulite e queste come diciamo già da una due settimane possono tranquillamente sospendere gli interventi contro questa malattia fungina purtroppo però vi è anche una percentuale di vende che hanno infezioni più o meno gravi di ticchiolatura e queste dovranno ancora continuare a coprire in modo piuttosto attento perché abbiamo ancora frutti sensibili alle infezioni di ticchiolatura in particolare alle infezioni secondarie che potrebbero generarsi dopo bagnature dovute a piogge ma anche a rugiade o ai righefioni sopra chioma appunto dalle macchie già presenti in campo i prodotti da impiegare in queste vende sono i soliti ditialon, la dodina, il captano e nei casi più gravi si può fare ricorso per ridurre un po' la sporulazione a rame e wolfo facendo attenzione però per limitare al massimo la fitotossicità che questi prodotti possono avere di effettuare gli interventi non nelle ore calde e con pianta asciutta. Per le pere il discorso è più o meno analogo aggiungerei ai prodotti prima indicati i ditiocarbammati che solitamente si usano come lo viram che può essere impiegato al massimo due volte per annata o il tmtd che può essere impiegato al massimo otto volte e che ha 30 metri di rispetto dai corsi d'acqua oppure il poliram. Se da un lato comunque sta calando un po' il rischio di ticchiolatura crescendo i frutticini e quindi diventando questi meno sensibili dall'altro aumenta sicuramente il potenziale rischio di maculatura bruna dico potenziale perché adesso per esempio non ci sono condizioni favorevoli alla malattia che sappiamo essere quelle di clima piuttosto caldo umido con bagnature delle foglie appunto dovute a ruggiare a pioggia e irrigazione. Qualora si dovessero verificare però queste condizioni dovremmo fare ricorso ai prodotti un po' più attivi un po' più specifici contro questa malattia associando al tipico prodotto di copertura che viene usato quindi che può essere il tmtd o il captano, le strobilurine che ricordo possono essere impiegate al massimo tre volte in un anno e mi riferisco a trifloxistrobin o piraclostrobin oppure il rovral che però non può essere impiegato più di due volte nei nostri frutteti in un anno. Ora cambiamo argomento parliamo di insetti ma prima sentiamo Cleglia con i suoi modelli previsionali.